Non solo benzinai ma anche tassisti. La categoria sciopera e in forte difficoltà per l'aumento dei prezzi del carburante e per l'incremento del costo della vita e delle assicurazioni. Secondo loro, negli ultimi 12 anni il prezzo della benzina è cresciuto del 30% a fronte invece di un aumento del solo 4% delle tariffe dei taxi. I tassisti romani, riuniti sotto la sigla sindacale Fast Consal, hanno manifestato in piazza del Campidoglio. In questo periodo dell'anno, messi ulteriormente in difficoltà anche dal poco afflusso dei turisti in città, chiedono con forza alle istituzioni, in particolare al Comune di Roma, l'erogazione in loro favore di buoni carburante e di altri aiuti. Abbiamo chiesto anche la possibilità di avere un piccolissimo ritocco tariffario solo alla partenza, quindi non a un aumento di questo tipo, in modo da spalmare su tutta l'utenza la possibilità di avere un contributo.